Anno scolastico al via in molti comuni dell'Irpini e anche nel capoluogo. Siamo pronti e sono state attuate tutte le azioni per rendere gli edifici sicuri e accoglienti per i nostri ragazzi, dice l'assessore all'istruzione di Palazzo di Città, Lucia Forino. L'esponente della Giunta Nargi chiarisce sulla data di partenza della mensa scolastica. Disponibili a cominciare già dal prossimo 12 settembre, ma abbiamo accolto la richiesta dei dirigenti scolastici e degli organi collegiali, acconsentendo a dare il via alla refezione il 30 settembre. Le scuole da tempo accolgono i ragazzi con diverse attività perché possano inserirsi da subito, sentirsi a proprio agio nella scuola, quindi a seconda naturalmente delle diverse età. Il comune naturalmente è pronto, sono state attuate tutte le azioni che sono necessarie per rendere gli edifici sicuri ed accoglienti e quindi anche per iniziare quelle che sono le attività, soprattutto per quello che riguarda per esempio il tempo pieno e quindi con il servizio di resettorio, di mensa scolastica. Quindi siamo veramente pronti, siamo soddisfatti e certamente poi inizieranno come hanno deliberato negli organi collegiali delle diverse scuole in maniera un po' sfalsata perché la Regione Campania ha dato quale inizio il 12 settembre, però poi all'interno dell'autonomia alcuni istituti avevano deciso di aprire oggi, altri domani, altri dopodomani, altri normalmente il 12, quindi è tutto pronto. All'augurio di iniziare con grande entusiasmo perché la città, la scuola vive del loro entusiasmo e di poter vivere quest'anno scolastico ricco come una bella e nuova per qualcuno prima avventura. Un augurio particolare soprattutto a quelli che iniziano per la prima volta un percorso scolastico e a quelli che lo cambiano e quindi passano magari dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria o alla scuola secondaria e quelli che termineranno con, ci si augura il meditato diploma. Quindi veramente l'augurio di un anno sereno in cui possano soprattutto curare le relazioni interpersonali perché questi ragazzi e bambini sono momenti speciali, viveteli a pieno.